Ciao ragazze, mi è appena arrivata la May Beauty Box di questo meso, cioè di luglio anche se siamo appunto a fine luglio, ma credo che le spedizioni siano arrivate adesso per il fatto che comunque siamo tutte, cioè teoricamente, secondo loro siamo tutte in ferie e quindi hanno deciso di aspettare a fine mese probabilmente adesso vado ad aprirla, mi è appena arrivata adesso, adesso, adesso e ho una decina di minuti per parlarvi di quello che c'è all'interno vediamo un po', la vado ad aprire, la confezione è sempre la solita, fatta così e all'interno è nera allora, andiamo ad aprirla insieme, vediamo un po' cosa c'è dentro allora, allora, ci sono un po' di opuscoli vari il solito cartoncino ho sbirciato, adesso vi dico cosa c'è allora, io ve lo leggo il cartoncino se volete schipparlo, andate al minuto che vi scrivo qui dear cosmetics and beauty expert siamo ad agosto e siamo finalmente più riposati perché ci siamo goduti le tanto meritate vacanze il nostro spirito si è rigenerato con il sole e possiamo finalmente spoggiare la nostra abbronzatura con orgoglio sì, quel che ne rimane, io direi non dimentichiamoci però che i nostri capelli possono aver sofferto lo stress dell'esposizione al sole e alla salsedine e che la nostra pelle ha bisogno di cure, soprattutto quando è abbronzata penso che mi abbiano letto nel pensiero per questo motivo, My Beauty Box è orgogliosa di presentarvi questo cofanetto in partnership con Kepro da 30 anni specialista di prodotti professionali di bellezza e prodotti per capelli in esclusiva per My Beauty Box, Kepro presenta tre dei suoi marchi di punta Iden marca internazionale che utilizza le proprietà protettive e nutrienti della propoli combinate con estratti botanici per promuovere capelli, cute e pelle sani con lo shampoo e il balsamo della linea Omega 3 Plant i vostri capelli saranno subito più elastici, vitali e idratati Kai di questa linea Made in Italy, Kepro, vi offre invece dei cristalli liquidi ad azione sigillante e lucidante che rinforzano i capelli rendendoli luminosi e idratati eliminando e prevenendo le doppie punte per pettinare i vostri capelli in tutta sicurezza utilizzate invece il pettine in legno a denti larghi per avere sempre i capelli districati e senza nodi ci credete che dovevo comprare un pettine in legno? perfetto, meno male che non l'ho preso Emporium Spa questa linea si prende invece cura della vostra pelle con i guanti peeling massaggiate la vostra pelle ad ogni lavaggio per preservare più a lungo la vostra abbronzatura aggiungete un po' di sapone sul guanto ed oltre all'esfoliazione potrete detergere e pulire la vostra pelle con un'azione 2 in 1 quindi, ora non vi resta che fare in video a tutte le vostre amiche mostrando i capelli sani e luminosi preservando la vostra pelle abbronzata a lungo con tutti i prodotti offerti da Kepro il team è la redazione di My Beauty Box allora, questi qui sono i prodotti che ci sono all'interno c'è un buono sconto di Kepro del 20% vediamo se c'è un punto vendita nella mia città sfortunatamente no peccato però comunque c'è poi il catalogo Iden dove ci sono tutti i prodotti per i capelli vedete capelli penso anche corpo e poi andando proprio al succo del discorso vediamo appunto i prodotti che ci sono dentro la My Beauty Box allora il pettine che è questo pettine in legno di questa dimensione che appunto serve per districare i capelli senza che si spezzino perché l'utilità del pettine in legno è proprio questa non spezzare i capelli addirittura mi pare che il pettine in legno si possa utilizzare con i capelli bagnati quindi è bellissima è una cosa molto molto utile poi i guantini esfolianti io ne ho già un paio presi da Limoni se non erro da profumeria Limoni che adesso vedo se utilizzare o magari regalare la bustina è molto molto utile perché da viaggio potete metterci quello che volete c'è questa chiusura con la zip in modo da non far uscire il liquido credo se c'è qualcosa di liquido da non farlo perdere appunto nella borsa poi ammappate i cristalli liquidi che sono enormi cioè ce ne è vediamo subito 100 ml pesantissimo questo flacone allora so che i cristalli liquidi non fanno gran che bene al capello tra l'altro mi sembra che abbiano lo stesso odore dei cristalli liquidi che ho già non fanno gran che bene perché contengono silicone infatti ciclo di meticone di meticonol linalol come è? diverse schifezze però possono sempre servire magari una volta ogni tanto e c'è scritto solo per uso professionale e questi sono di Kpro 36 mesi dall'apertura qua ci sono gli ingredienti non so se riuscirete a vederli ma quelli sono e poi infine questi due prodottini qui che la confezione mi piace un sacco è carina questa qua verde e lo shampoo 60 ml e il balsamo sempre 60 ml c'è scritto appunto come applicare lo shampoo e come applicare il balsamo questi sono gli ingredienti li vedete? sì qui e qui e basta la box è finita non c'è nient'altro all'interno penso che siano tutti uguali nel caso non fosse così fatemelo sapere nei commenti chiudo chiudo velocissimissimamente il video perché ho la batteria della videocamera a zero e che dire di questa box sono molto soddisfatta utilizzerò sicuramente tutti i prodotti a parte i guantini adesso vedremo se riuscirò a utilizzarli perché ne ho già un paio e spero appunto che aspettate sì hanno un buon profumo questi prodotti questi qui no? Plant Omega della Eden hanno davvero davvero un buon profumo speriamo che puliscano bene i dratti noi facciano il loro dovere e niente vi farò sapere come mi sono trovata con la scorsa box un bacione se volete iscrivetevi se volete appunto lasciatemi un commentino qui sotto e ci vediamo nel prossimo video ciao